Valdastico a Rovereto Sud, l'annuncio fatto dal Presidente Fugati è stato smentito dal Ministro Fraccaro. Propaganda, il Governo non ha dato nessun avvallo. La Giunta Provinciale nomina dei nuovi dirigenti, tra i promossi anche il figlio della Capogruppo della Lega, Mara D'Alzocchio. Il Trentino è arrivata una nuova famiglia di siriani, grazie ai corridoi umanitari. Padre, madre e sei figli saranno ospitati a Maso Martini, a Pergine Valsugana. Anche un Trentino si aggiudica il precisoso Davide Donatello e Lorenzo Tamburrini che si porta a casa la statuetta come miglior truccatore per il film Dogman del regista Garrone. Le gemelle dell'AI, ospiti del programma di Canale 5 Live, non è la D'Urso. Le due pornostar trentine hanno raccontato propria vita e parlato della loro infanzia a Villa Montagna. 7.30, è ora di tornare a casa. È ora di fare la dichiarazione dei redditi. Prenota il tuo appuntamento con Caffacli su www.mycaf.it o telefonando al numero unico 199 199 730. Caffacli